E vabbè dopo allora... R11 hai detto? Si Vediamo gli spawn Ok dopo lo guardo Aspetta che manca lo zibbolo Loading loot I primi load ci mettono sempre 3 Mi faccio un paio di raid e poi vado con gli americanzi che mi stanno rompendo il cazzo Dicono ah non giochiamo mai, please one raid Ah Vediamo di farli valere questi raid Uccidendo tutti C'è una nembiolina di merda c'è Forca Dio Sapevo che c'erano le nembiolina e portavo il termico Mi ha negato il laser, suca Come siete? Dietro di te Ah capisco Ah K Sono davanti E Cooper? Dietro Ok va posta posta Stavo controllando se qualcuno scendeva la collina Questa c'è lo spawn di la E' una nembiolina di cavalli Oh a destra a destra dal morto dal morto due player Ok Uno l'ho ucciso credo Si è fullato C'è un altro hai detto? Si si Ne erano in due Eh se ne sarà entrato dentro si sarà camperato Parto? No no Lancia una granata eh Te tieni Allora hai il frame Granata non so se era la tua vera C'è qualcuno che tiene dall'altra? Si? No Io non sto tenendo Venti a destra Venti a destra Ma dove cazzo sto sparando? In una granata In una granata Lo flanco eh Aspetta eh Oh merda Non è arrivato Ma Cooper? Sono attaccato al muro Verso di lui Chi è quello lì all'angolino? No no lo spara spara Parto Vai Fagliacci Ottimo perfetto dai Sono io dietro non sparate mia Sto chiudendo le porte che arrivano da Se fosse Rocca quell'altro lì all'angolino Ho detto boi non sparo No no ero sotto io ero sotto ero Prima Prima chiedo poi sparo No non termico Vuoi robarmi un termico Ok quello prendetelo Mi appioppo questo più che sufficiente Ma quale angolino? Livello 65 Game over Bratan Io mi prendo solo il fast mt di vast Cazzo Cazzo livello 65 Giocava così di merda Ehm Sicuramente non c'era Mi ha fatto un drop shot di quelli della madonna Però L'ho headshotato prima Prima io quindi Questo è un 42 Eh voi? Questo fisore di merda lo boot C'erano 9 punti di ritrabilità Eh K questo qua aveva i mirini metallici sull'M4? Ehm questo non era un M4 Questo era un HK di sto tizio Ah Capisco Era un HK aveva questo? Si Sto prendendo il suo rig Lascio il mio alfa se qualcuno vuole fare cambio Aspetta guardo cosa c'ha Coprimi un attimo Quello li hai lasciato Mi prendo le cuffiezze Niente adesso mi prendo anche il TV League che sto Lo sto sistemando un attimino Perché butti il sale e vai l'IFUK? Eh puoi prenderli non mi servono Erano tutti full HP man Prendili Prendili Mmm Money Ok Aspirato per bene Beh andiamo no No E' già una coppia di fullati è morta Invece No L'altro che livello era? 42 Targhetta presa 47 Yes Ma aveva l'altine in testa il tizio? No Fast MT Nero Fast MT e quello li è che è live Sì 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 Amura 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 Vai dietro il treno Giù in fondo In punta Sì l'ho visto sta andando a destra Andando a destra Sono un player? Sì Fanculo non sono riuscito a spararlo in tempo Come è andato scusami? A destra Sì che ha strisciato? Io mi son buttato in terra Sono dentro il magazzino io? Io sto fuori che Faccio il giro Questo dovrebbe essere rientrato nel cancello Ma non lo Ma neanche si è buttato qua sotto Perché qua sotto c'è una Una rientranza in terra E' sopra E' sopra di qua E' oltre il muro E' sceso E' correndo via tipo Magnatista granata Oh l'hai preso in pieno E' morto? Sì Vero Non è detto eh L'ho visto alle scalete Però io ho visto la sua testa E poi l'ho visto andare giù Con l'esplosione Non ti ho tirato talmente a cazzo Vabbè Rivello 2 Prostima volta impari a sparare Dammi la capo Riperotti Chi è che ha corso qua in mezzo? Ah Oh ma Oh! Quel bear! Non uccidi? Pensavo fosse uno di noi E lui pensava io fossi qualcuno del suo team Allora LOL Attenzione, attenzione allora Erano amici questi E LOL Ce n'era uno di troppo C'era uno di troppo E' tombato Sai vedere chi l'ha ucciso un attimo Sono curioso Questo l'ho ucciso io E' Cooper fanculo Ce n'era uno di troppo Sembrate di averlo ucciso in bocca Cazzo ho sparato Aspetta che mi ricarico veloce C'è quel gerli dietro In piedi fermo che guardo E lo E lo E lo E gli sparate Cioè è nudo Secondo raga mi sto caricando Datemi un Eh 10 secondi giusti E' la stessa cosa Quando io mi Perché Anche lui ci guardava E pensava Boh vabbè Poi guardo Poi mi giro e ce n'erano tre Ma aspetta siamo i quattro in team Sì Sì Mi rubo il 3 zip da avere una paletana No Fook off Fook off Minchia devo girare di più la visuale per vedere più posti Non so se c'è qua qui stranamente il cadavro pronto andiamo ciorca usciamo da qua andiamo nel retro andiamo di qua arrivo un attimo è troppo lento rocca devi essere veloce veloce super veloce non ho ancora sparato un colpo posso sparare please? che maishu l'ha ucciso cooper perchè non hai mirato bene chi oltre la collina? no 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 spara troia r700 è sulle rocce o no? no 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 lancia una granata lancia una granata anzi vado dietro raga non mi posso muovere perchè sta mirando a me granata? scherzavo niente granata non mio stava mirando a me proprio ucciso 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 anche lui ucciso anche lui no 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 spara spara ucciso 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 il m1 ci spiace rocca ma l'ho fatto io ma veramente questo con l'attac 2 guarda oh gesù cristo ti metto la targhetta nello zaino guarda nello zaino Eh aspetta guardo come sono, prima mi cura aspetta 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 Vai prendermi l'M700 questo qua, gli ho tirato un headshot Ho tutte e due le gambe spezzate io, guardate piano per favore, dopo Ma Maria per favore Boh io pensavo fosse uno di voi questo qua, incredibile Beh più o meno com'è successo prima Allora Mr. R700, si l'ho headshotato Eh comunque c'ha una, c'ha una gen 4, 44 su 55 che non posso prendere Vabbè io mi prendo la kill, o la stai prendendo tu capo? No no tutta tua Rocca, tutta l'armatura, anche l'ULAX se vuoi prendi tutto Questa non la puoi prendere Ma guarda te che cazzo di partita raga Ah credibile Ho detto ma chi cazzo è questo con l'M1 che spara all'altro? Ho detto ma chi è quello che spara? Chi è l'alleato e chi no? E io intanto ero lì in mezzo a tutti i fight e cosa succede? Ma gli ho sparato sai quanti colpi? Un caricatore intera Oh minchia... Dov'è? È al salto o sbaglio? Ho c'ho uno? Ho c'ho due, vai vai Scava di merda Aia Ma guarda due scav player? Sì Aia Minchia uno aveva quello oltre il muro, quello oltre il scavino, uno aveva il fallo, Dio buono, meno me che uno mi ha preso Sto arrivando da voi Non male che c'è la mina da potato, mamma mia Sono tutto rotto cazzo, fatemi prendere qualche cosa, qua stiamo messi male qua La mia gamba, un po' tutto ebreo Ma cos'è che mi è uscita una cosa verde? Oh ok ok, è andata via Qualc'altro scemo che si vuole far vedere in sta partita o possiamo andarcene? Ma io vorrei strano che sono pieno Zepp Anche io Io sono tutto rotto Chi ha spazio si accucchi sto fall che c'è qua dietro dell'altro tizio Io lo voglio, io lo voglio il fall Ma no il fall, no non ne voglio il fall, un fall voglio io, fall, fall, fall Fall dai Intanto è morto sto tizio, si Questo ve lo prendo Ok, chi è che vuole il fall? Ah io non c'ho a posto Non ho spazio se lo prendo Non ho spazio, man Lasciare un fall è un po' un peccato Dov'è sto merda? Fammelo vedere Qua dietro Mi voleva fare l'ambush mentre ero sul pullman Ma sto scemonito del cazzo Va bene Forse vale più del 209 Forse Leggermente Vale giusto il doppio Less than half Bella Non è anche il fall Ma il fall son da usare Non da vendere Vendere Ah R-Sass Raga piano sono spezzato tutto Raga veramente Aspettatevi un secondo Se no ci lascio le penne Sporrendo Ma il rigato è liscio Lasciaci le matite allora Ghe ghe Easy A meno che Aspetta un attimo Vediamo se riesco a spammare pure a tutto spiano Mentre corro Comunque Mi sa che abbiamo wipeato l'intera map Non vorrei dire ma Beh Tutti gli spawn dall'altro lato Però Non è ancora qua No siamo messi a 9 totali Noo Questi qua è impossibile Sono suonati qua Siamo rimasti sulla colline Sul 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 tralice Ho preso 10 painkiller Cazzo Perché spammare pure Tra un po' muoio Prendere 10 painkiller non è che ti fa ridurre il danno Sto sbagliando io tasto Ho sbagliato tasto Overdose Esatto Overdroga Oh si Guarda la droga Che cazzo? Cos'era? Ah! Che è che sei storpiato? Secondo me è dietro uno scav col filo spinato Ma dove? Dietro la cabina Dietro la cisterna forse Possibile Possibile Lo vediamo subito Lo vedo uno qua Cazzo Non riuscivo a mirarlo Con queste braccia rotte Che c'ho Se era lì è morto Cos'era potrebbe aver fatto il salto lui Come primo Nooo ho finito la morte Chi ha un painkiller extra Painkiller painkiller Io te la posso dare Tieni uno Per non usare la Non ho io accanto a te È qui è qui Non ho io qua Che sto zoppicando Aspè Io ho solo vasellina e morfina Vabbè facciamo la L Vediamo un po' Ok voglio uscire Prima che sto painkiller Finisca l'effetto Beh se no ce n'ho altri Non voglio usare Non voglio usare la morfina Secondo me anche Sti tre sono rimasti confusi Ho detto Ma chi cazzo è chi? Sii Guarda dov'era sto stronzo di merda Adesso c'è la T-Guard rossa nello zaino E Fiappa ci passa sopra Sto negriero Più veloce Mi te scappa È aperta? Ah che bello Forse Perché questa stazione è sempre aperta Però poi non ti estrae Dimmi di sì perché io il painkiller non ne ho più Eeeh E' strae Si Invedibile Ah bello sfamato E' strae E' strae E' strae E' strae